Ci sono metri per i giocatori della Juve qui, palla e mezzo per Cristiano, ha dimostrato una tecnica pazzesca, non è da tutti segnare un gol del genere. Sicuramente uno dei gesti più spettacolari e difficili da eseguire, certo però è quando riesce come in questo caso. Grazie a tutti.